Ciao a tutti, sono Barbara Bardina, Italia, Milano. Ho 43 anni, sono un fitness trainer e un'atleta master nel CrossFit. Uso i prodotti Herbalife da circa 6 anni e ho iniziato a usare il CR7 Drive da circa 5 giorni. Ho avuto subito una buona percezione come supporto nel metabolismo energetico. Lo consiglierei questo prodotto soprattutto per avere una costante energia in tutto l'allenamento e non sentire affaticamento. Inoltre lo raccomanderei perché è molto importante per gli atleti avere, ma anche per tutti gli sportivi, avere una costante supporto di idratazione e di resistenza muscolare. Un'altra cosa che ho sentito usando il prodotto in questi giorni è che durante gli allenamenti duri, anche di 2 ore, ho una sensazione di affaticamento come se avessi 20 anni anziché 43. E quindi andare alla gara, alla prossima gara, sempre più strong. Ci vediamo all'estravaganza. Ciao a tutti.